C'è voluta una grande mobilitazione dei sindaci, di tante persone dal volto mano del nostro paese, tante associazioni, tanti movimenti, le parole autorevolissime del Papa perché si muovesse qualcosa all'interno del governo, ma la fotografia che per muoversi hanno dovuto attendere la disponibilità di sei paesi e l'Unione Europea è una pagina assai triste, perché credo che il governo italiano avesse l'obbligo giuridico di farli sbarcare immediatamente, oltre che l'esigenza di umanità che l'avrebbe dovuto contraddistinguere, poi dopo c'è un tema che riguarda l'Europa, che ognuno deve fare la sua parte, ma credo che lo scuotimento delle coscienze è stato dovuto alla sensibilità di una parte importante del nostro paese che sta scrivendo delle pagine molto belle, di umanità, di rispetto delle regole, del diritto, del diritto internazionale, contro condotte antigiuridiche, contro un volto disumano e contro credo anche dei reati, tanto è vero che adesso per proteggersi dai reati cercano l'immunità parlamentare. Perché dopo aver ascoltato per molti giorni il Ministro Toninelli ancora oggi che dice che il porto è chiuso, io lo vorrei ricordare che non ho ancora letto ordinanza, il porto almeno di Napoli è aperto. Poi ho ascoltato Di Maio dire che avrebbe sequestrato le navi, vorrei ricordare a Di Maio che esiste ancora una Costituzione in cui c'è la separazione dei poteri e il sequestro non lo decide il governo, il sequestro eventualmente lo dispone in sua autonomia l'autorità giudiziaria. E' chiaro che pare sempre più difficile salvare le vite umane. I criminali non sono gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, le condotte antigiuridiche non sono quelli dei governi che lasciano le persone col rischio di morire in mare, sono i testimoni di giustizia, le ONG, che vengono colpite perché sono quelli che vanno a salvare le vite umane. Mi ricordo un po' come i pescherecci di qualche anno fa in cui sequestrarono le navi, se ve lo ricordate, pescatori incriminati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina perché di fronte all'antigiuridicità e anticostituzionalità della legalità formale avevano scelto dal punto di vista etico di salvare le vite umane. Adesso sta accadendo la stessa cosa, chi salva le vite umane rischia sul piano personale e rischia anche il sequestro dei mezzi salvando le vite che dovrebbe salvare lo Stato, perché poi questo è il tema principale. Quindi davvero una pagina molto triste, sono d'accordo, e anche molto rischiosa per chi salva le vite umane. Grazie a tutti.